Ammonta al 40% la riduzione del numero dei matrimoni celebrati nel Comune di Prato nel corso del 2020, un crollo che ha come principale causa il Covid con i conseguenti divieti o forti limitazioni delle cerimonie dei relativi invitati. Secondo il report pubblicato oggi dall'Ufficio Statistica del Comune di Prato, nel 2020 sono stati celebrati 230 matrimoni contro i 384 del 2019, i 380 del 2018, i 378 del 2017 e i ben 426 del 2016. La riduzione vale sia per le nozze tra italiani che per quelle fra stranieri o misti. In particolare i riti fra sposi italiani sono stati 158 contro i 239 del 2019, quelli misti 40 contro i 76 dell'anno precedente e infine quelli fra stranieri 32 contro i 69 del 2019. Il totale dei matrimoni con almeno uno straniero è 72, oltre la metà del 2019 quando furono 145, il dato più alto degli ultimi 5 anni. Tutti i 72 matrimoni con almeno un coniuge straniero sono stati celebrati con rito civile, quello religioso che in passato era presente nelle statistiche seppur con numeri e percentuali basse, nel 2020 è stato quindi completamente azzerato. Tra gli stranieri chi non sposa italiani predilige persone della stessa origine.